La nuova Pescara non nascerà soltanto in ossequio al diritto, alle attività deliberative tradizionali, ma dovremo comporre organizzazione, economia e pensiero politico. La fusione dei comuni di Pescara-Monte Silvano e Spoltore, prevista per il 2027, non deve riguardare solo le tre amministrazioni, ma deve coinvolgere anche la cittadinanza. Lo ha ripetuto il deputato Luciano D'Alfonso nell'incontro, che ha messo insieme figure politiche e competenze per fornire idee su come dovrà nascere la nuova Pescara. Noi vogliamo un nuovo contratto tra diritti e doveri dei cittadini nei confronti dell'ordinamento comunale. Abbiamo chiamato il professor Gualandi, che insegna diritto delle città allo Juav di Venezia, avvocato di prima fila a Bologna, ha seguito il grande lavoro che ha determinato la trasformazione di Bologna in città metropolitana. Poi ci sono 20 premurosi che hanno a cuore questa intuizione della nuova Pescara, con i quali oggi discuteremo senza riguardo, senza rete, laicamente, senza inginocchiatoio. Nulla si dà per scontato, sapendo che anche nel Medioevo, quando nascevano le città nuove, generavano dei diritti in più, delle comodità in più, delle agibilità in più. Questo è quello che cominciamo a scrivere oggi su una lavagna, sapendo che avremo bisogno anche di ripensare lo statuto. Lo statuto è un sedime dove si scrivono norme fondamentali che aiutano anche il processo deliberativo. La vicenda di Viale Marconi, io adesso non voglio riportare tutto al quotidiano, dentro questa logica che stiamo rivisitando non sarebbe accaduta, perché ci sarebbe stata una prevalutazione, non una post-correzione. Grazie a tutti.